ciao benvenuto reggio emilia al campo volo grazie come ti chiami simone simone ciao simone senti ti hanno trascinato qui o hai scelto tu di auto trascinarti ma era surprise o c'è amici ma la mente diabolica il mio fratello diabolico è stato molto bravo fratello vedrai che ti divertirai un sacco lo spero dai va bene allora adesso vai su poi quando scendi mi dici com'è andata divertiti l'importante è quello ascolta tutto chiaro chiarissimo non hai nessun dubbio bravo bravo esatto allora non mi rimane niente da dirti divertiti e basta ciao ciao fratello di stefano iscriviti al canale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Il volo è bellissimo Questo mi sto cagando un po' sotto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti